Di Ramsey sigilla la partita e fa vincere la Juventus 2-0. Tre punti importantissimi per la Juventus che sta piano piano agganciando anche la Roma e cerca di superarla. Però noi dobbiamo stare molto attenti, speriamo che noi dobbiamo vincerle tante e la prossima è decisiva ragazzi, la prossima è decisiva perché se la prossima partita la vinciamo contro la Juventus possiamo anche staccarla e noi dobbiamo, se continuiamo ancora a vincere, possiamo anche staccarla e loro devono perdere. Speriamo perdere, mi sembra sabato o domenica, non possiamo perdere, non possiamo perdere, è importantissimo, dobbiamo distaccarli. Parliamo della partita ora ovviamente, il primo call della partita è di Chiesa al ventesimo e la Juve va in vantaggio al ventesimo, 1-0 e 3 punti già messi da parte. Però la partita è ancora aperta, però nel secondo tempo qualche occasione della Sampdoria succede, però la fa qualche occasione la Sampdoria, però niente di che. al novantunesimo sbuca Ramsey a porta vuota dopo il passaggio di Morata, mi sembra Morata, assist di Morata a Udero che esce, però ovviamente intelligente Morata la passa a Ramsey a porta vuota, segna il 2-0. E lì ovviamente era molto difficile ricuperarla per la Sampdoria. Partita però la Juve secondo me doveva chiuderla prima perché queste partite devono chiuderle prima, così devono stare molto tranquilli, quindi se prendono un gol devono stare tranquilli. Però dobbiamo stare attenti, io ho tanta paura che ci supera anche, noi dobbiamo anche stare attenti all'Inter che non ci scappa, che non ci scappa, perché se noi cominciamo a mettere in caso a perdere alcune partite, ci scappa. E' in raggiungibile dopo, quindi dobbiamo vincere ogni partita, non dobbiamo mai mollare, dobbiamo sempre lottare come ogni partita. Il ritorno di Ascelowni potevo fare anche io ancora il video, poi ci saranno tanti altri che stanno arrivati, iscrivetevi al canale, se ancora l'hai fatto attivate la campanellina per non perdere il prossimo video, ciao ragazzi.